Buongiorno Qua è il Tempio Zen Si chiama Eheji 750 anni fa Fondatore Dogen Qua è il Tempio di Sanctuario di Bottismo Zen Questa è il Tempio di Bottismo Questa è il Tempio di Cappella di Cristiani Invece è qui Questo è Cucina Dai Cuin si chiama Questa è il Tempio di Cappella Ma soltanto usano come riso, miso, soya, verdura, senza carne, assolutamente. Qui c'è il cuore giapponese tradizionale, tranquillità, disciplina, senza spiegazione. Tutto il movimento, tutta la mani era già formata. Avete visto? Un monaco ha pregato al Buzudel per capella, perché nella stanza c'è statua di butta. Allora, giriamo un po'. Monaco sta camminando. Qua centi monaci sta facendo allenamento di Zen. Nostra vita, per esempio, per stamattina alle tre e mezza hanno svegliato. Wow, troppo presto. Poi fanno preghiera per butta, poi fanno meditazione zen, poi pulizia con tutti, poi pranzo, poi pregano, fanno meditazione. Poi fanno preghiera per la mia vita. Ah, questa costruzione è Samu, cioè è la porta principale, veramente vecchia, elegante. Questa statua, queste statue si chiama Junishinsho, cioè l'anima proteggono al regola di buddismi e butta. Mi piace tantissimo questa scena, scena da porta principale. Però qui soltanto monaci superiori possono salire e scendere. Guarda, poi senta l'atmosfera. Allora, ci vediamo presto, ciao. 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 Ciao.